Abbiamo questa variante Delta di cui è stata dimostrata sicuramente la maggiore contagiosità e sappiamo che è più facile beccarsela in qualche modo. È l'unica variante registrata negli ultimi tre giorni nel territorio aretino e si sta diffondendo rapidamente. Sono 26 i casi di variante Delta in provincia di Arezzo pochi giorni fa, erano appena 5 i dati comunicati dalla ASL non lasciano scampa di interpretazioni tra il 13 e il 15 di luglio, sono stati riscontrati 57 casi di varianti, 48 sono Delta. Le aperture che ci sono state in concomitanza anche con gli eventi di cui sappiamo, quindi festeggiamenti per la nazionale e quant'altro hanno contribuito a ridurre le distanze, a non mettere purtroppo le mascherine quando dovevano servire e questo sarà sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo avuto un incremento dei casi. La provincia di Arezzo è quella con la maggiore presenza, 26 casi ma potrebbero aumentare, 9 sono in fase di sequenziamento, 5 a Siena, 17 a Grosseto dove si sono verificati anche 5 casi di variante colombiana. Per fortuna gli aspetti positivi sono che comunque si ammalano solo coloro che non si sono vaccinati e quindi per ammalare dico quelli che hanno sintomi comunque importanti e comunque tra qualche vaccinato con vaccinazione non completata ci sono casi perché abbiamo visto che comunque la non completezza della vaccinazione fa sì che si possa prendere questo tipo di infezione, mentre una vaccinazione completa è sicuramente protettiva. Ad oggi devo dire che i casi di malati ricoverati negli ospedali sia nei reparti Covid medici sia nei reparti Covid intensivisti, quindi di animazione, sono in calo, sono ridotti e ci auguriamo che continuando la vaccinazione a sprombattuto, seppur sappiamo che purtroppo una criticità è la mancanza dei vaccini e possa contribuire appunto a ridurre progressivamente la diffusione di questo virus sempre insieme al buon senso delle persone. Quindi manteniamo comunque le protezioni, però ecco il vaccino anche se non completato, insomma l'iter vaccinale protegge dalle conseguenze più gravi anche di questa variante? In realtà nel Regno Unito le persone che hanno fatto solo una dose di vaccino in alcuni casi sono stati ricoverati quindi direi che l'ottimo è fare la doppia dose di vaccino o completare il ciclo vaccinale questo non ci sono dubbi perché protegge per la malattia conclamata e per le complicanze in più dell'80% dei casi a seconda dei tipi di vaccini, ovviamente quelli a mRNA la protezione è maggiore, per quelli a vettore virale un pochino minore però comunque sia diciamo l'obiettivo è quello di fare vaccinazione doppia e di mantenere comunque negli ambiti in cui noi possiamo, abbiamo una riduzione delle distanze, una promiscuità tra persone che non conosciamo mantenere sempre i dispositivi di protezione e l'igiene delle mani Per l'autunno troppo presto pensare a quello che accadrà? Le previsioni rispetto alle vaccinazioni è che anche il generale Figliolo affermava che comunque entro settembre il 70% della popolazione avrebbe, 70-75% avrebbe ricevuto almeno una dose di vaccino è ovvio pensare che una dose di vaccino può non essere protettiva perché comunque abbiamo le varianti che provocano questo tipo di problema e noi gli obiettivi dobbiamo, se possibile, cambiarli quindi intensificare sicuramente la campagna di vaccinazione e renderla a modi Formula 1 però ripeto, se i vaccini non arrivano questa è una criticità che non dipende da noi